E di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada stradale 17 fra Prato La Peligna e Sulmona. Nel tamponamento tra una Fiat Panda condotta da una donna di Prato La Peligna e un furgone Fiat Ducato guidato da un giovane uscito in leso, è rimasto coinvolto anche un mezzo della Polizia Provinciale che ha riportato dei danni di lieve entità, nessun problema per il conducente che era a bordo. Sul posto si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasportato la Pratolana a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Stando alle prime informazioni la conducente della Panda avrebbe riportato solo alcune escoriazioni ma le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. Il ricovero in ospedale è reso necessario solo per precauzione. Per rilevi di rito sono quindi intervenuti i carabinieri mentre la Polizia ha gestito il traffico che per più di una mezz'ora ha subito un fisiologico rallentamento. Il tamponamento a catena di questo pomeriggio ripropone con forza il problema della scarsa illuminazione dell'arteria stradale sollevato più volte da residenti ed esercenti della zona.